Il Paradiso delle Signore Sei, le anticipazioni. Negli episodi che andranno in onda l'ultima settimana di ottobre, vedremo delle novità nel rapporto tra Ludovica e Marcello. Innanzitutto, Ludovica, in nome dell'amicizia profonda che l'ha sempre unita a Cosimo, si trasferirà a casa sua. Bergamini, infatti, adesso che l'amica non ha più una casa e lui si trova lontano in Francia, decide di farle questo favore. Ludovica, felice più che mai, decide di chiedere a Marcello di andare a vivere con lei. Ormai stanno insieme da diversi mesi, hanno affrontato tante difficoltà e il loro rapporto si è consolidato. Inoltre, Marcello dovrà affrontare il primo grande evento del suo nuovo lavoro. Al circolo ci sarà un evento di gala molto importante da organizzare ed è il primo evento che non è organizzato da parri. La contessa, che ha fatto assumere Marcello solo per farsi perdonare da Ludovica e per cercare di metterlo in cattiva luce davanti a lei, non si smentisce neanche questa volta. In occasione dell'evento di gala, cercherà di mettere in difficoltà Barbieri dal punto di vista lavorativo, che però non cadrà nel tranello nella dobil donna. Umberto invita Flora all'evento di gala del circolo, evidente ormai che è attratto dalla giovane stilista, la quale non distegna le attenzioni del guarnieri. Chissà se la contessa si accorgerà che il cognato è disposto nuovamente a tradirla. D'altronde non sarebbe neanche la prima volta.